Ma qualcuno ricorderà che noi per esempio Civati penso da mesi parla di nuovo centro-sinistra e quello che dobbiamo fare, quello a cui dobbiamo puntare, tornare all'alleanza con cui ci siamo presentati agli elettori ormai più di un anno fa, quello è il campo di gioco nostro per cui ben vengano le aperture di SEL e di Vendola che siano aperture fatte sul metodo e che siano aperture fatte sul merito. Il resto è soltanto chiacchiera da giornale.